Buongiorno, vi volevo parlare di un fenomeno su TikTok, le live della miseria. Io volevo fare una domanda, ma come mai questa gente in posti disastrati tipo l'Africa e l'Asia o il Medio Oriente hanno i soldi per il telefonino però non hanno i soldi per mangiare e hanno una connessione migliore della mia, senza offesa. Poi volevo precisare che io non ci sono più su TikTok, hanno cancellato il mio profilo ma mi hanno fatto un favore perché non sapevo come cancellarmi. L'unica cosa è che non mi hanno dato i soldi dei regali dei follower, penso che sia un vostro modus operandi di derubare la gente. Allora io vorrei devolvere questi soldi in beneficenza ma non darli a voi caro TikTok, quindi siete anche un po' ladri. Allora io vi dico di questo social che per me ci dobbiamo tutti cancellare. Intanto ormai ci sono tutti quelli dello spettacolo, della TV, della politica. Era il nostro social, adesso è diventato una schifezza come tutte le altre. Buona giornata a tutti, buona domenica.